Ciao bimbe, bentornate nel mio canale! Allora, video collaborazione con il mio gruppo Facebook e che vi lascio il link già nell'info box e vi lascio anche il link delle partecipanti è il classico bye bye di Sarah è l'ultimo video di questo mese e poi ripartirà con il mese di gennaio e io direi di partire subito con le categorie e me le sono insegnate sempre sul mio magico iPhone allora, la prima categoria, skin allora, in questo mese non ho usato prodotti per la skin ho sempre usato i soliti prodotti di novembre quindi non ho a mostrare nulla di nuovo perché non c'è niente andiamo avanti, i capelli i capelli ho fatto finalmente la tinta e come potete vedere è veramente favolosa sono fatta la tinta, sono stra 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 felice perché finalmente ho trovato il colore che sta bene con la mia carnagione andiamo avanti body come bagno schiuma, sapete, ho usato questo qua che è quello che ho ricevuto per Natale e se non me lo inficco nell'occhio ed è veramente fantastico cioè, se amate il cacao io vi consiglio di provare questo burro cacao che la marcado è questa qua io spero che la riuscite a vedere comunque vi lascio tutti i link vi lascio tutti i nomi dei prodotti che ho citato di cui sto parlando tutti nell'info box andiamo avanti make up per quanto riguarda il make up ho provato queste matitine qua più che altro le swatch e il primo swatch, quindi la prima recensione è stra stra positiva e sono le matitine quelle di Mio & Co sapete che io amo questo brand per il via delle matite sopracciglia e queste le ho ricevuto per Natale e sono tutte queste qua e quelle veramente che mi hanno fatto più impazzire sono queste qua che adesso vi faccio vedere sono queste qua allora abbiamo questa qua che è la matita occhi glitter 04 che è un blu glitterato veramente stra stra bello e queste due matite labbra la 19 e la 03 e sono sui toni del borgogna quindi rosso, vinaccia, mattone, abbastanza scuro e veramente sono il top andiamo avanti intanto mi si è bloccato l'iPhone bene, così casca pure andiamo avanti vestiti, vestiti allora, cioè vestiti per modo di dire questo accessorio qua che lo reputo come un vestito per i capelli se così si può dire e è una fascia come vedete come quelle vanno di moda adesso e tra l'altro cioè mi piace tantissimo perché tiene davvero tanto 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 calda le orecchie dato che fa molto freddo almeno qui a Firenze si veramente si gela stendo in tema cose calducce e pelosine questo golf qua che ve l'avevo già fatto vedere in passato è un maglioncino super super caldo e pelosino come potete vedere di terra nuova e veramente cioè lo uso sempre infatti spero che con i saldi di gennaio di comprarmi altri maglioncini in questa maniera perché veramente cioè io vado ci vado a nozze con questi maglioncini poi sono super morbidi veramente li amo alla follia bevanda del periodo nessuna in parte l'acqua che bevuto sto bevendo tanta acqua l'app preferita l'app preferita è un giochino che io avevo già scaricato in passato non so se lo riuscite a vedere comunque è questo qua si chiama Stum Stum e è praticamente una sorta di candy crush solo con i personaggi della Disney quindi c'è Topolino c'è I.O. Perry Winnie the Pooh Paperino Paperina Tigro e come si chiamava il maialino che ora non mi ricordo mai aspettate che ora mi viene in mente Non Piggy come si chiamava il maialino di Winnie the Pooh comunque se ve lo ricordate scrivetemelo giù perché adesso mi proprio sfugge Pimpi ecco si chiamava Pimpi e c'è anche Pimpi veramente è un giochino un po' demenziale però io mi ci diverto tantissimo ultima categoria il film del mese allora sapete o meglio spero che sappiate che durante le vacanze di Natale fanno proprio tutta la carrellata della Disney e quello che mi è piaciuto più di tutti è stato il Gobbo di Notre Dame perché si sarà piaciuto Silvia e il Gobbo di Notre Dame per quale motivo Notre Dame parece no? ovvio cioè è scontato e quindi il film del periodo è questo qua comunque bimbe il video è terminato spero veramente che vi sia piaciuto questo bye bye dicembre volevo ringraziare tutte le ragazze che hanno partecipato al video collaborazione con me vi mando un bacione vi lascio i link del loro canale giù nell'infobox e niente bimbe ora io devo scappare perché devo mettermi subito all'editing perché se no per venerdì cioè voi lo vete già online ma questo video lo sto registrando martedì quindi devo sbrigarmi con l'editing se no non ce la faccio per l'uscita vi mando un bacione un abbraccione e vi faccio tantissimi auguri di buon anno e ci rivedremo a gennaio anno nuovo video nuovi iscritti nuovi speriamo quindi se non sei iscritto iscriviti e lascia tanti 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 like io ripeto tanti bacioni tanti abbraccioni e ci vediamo al prossimo video ciao bimbe iscriviti